auguri a tutti di buona vigilia di natale 24 dicembre 2019 3, 2, 1, go buongiorno ragazzi e ragazzi oggi sono ritornata a qui a un nuovissimo vlogmas oggi è il 24 dicembre il giorno che io aspetto tutto l'anno il giorno che mi piace di più per tutto l'anno la torre sono in condizioni oggi sono Giulia qui allora questi sono proprio miracoli di natale abbiamo trovato i Nutella Biscuits la prima volta che li troviamo li abbiamo presi 4 raga perché sono introvabili e costano 2,99 euro quindi vai passa vai passa ferma, 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 le passo io ecco oddio ragazzi, c'è 4 pacchi e raga io adoro assolutamente uno lo apriamo perché mi interessa cioè io ho visto una ragazza con questi biscotti in mano mi ha detto no devo entrare poi siamo andati dove di solito dovrebbero stare e non c'erano invece stavano tipo per terra dove nessuno li avrebbe mai visti solo Babbo li ha visti e io ne abbiamo presi troppo raga uno ce lo finiremo in 10 secondi il resto poi li conserveremo ci piacciono? non ci piacciono? sicuro c'è la nutella dentro vabbè non potremmo dire non potremmo dire vi facciamo per il dopo abbiamo preso 4 quarti ci vediamo allora altra tappa campania ora facciamo qualche altro regalo perché devo fare ancora il regalo a lei e Giulia deve fare il regalo a me e poi devo fare il regalo a Babbo e a mamma perché non ci siamo stati appunto in questi giorni e non abbiamo ancora fatto il regalo però oggi li faremo perché va bene e niente siamo andando a campania proprio perché magari a più negozi se riusciamo a trovare qualcosa perché per ora non abbiamo trovato niente e di noi se dobbiamo fare di questi miei regali anche a qualche parente quindi yuppie e niente ora ora andiamo ok possiamo passare e e nada ora andiamo yuppie il primo regalo già l'abbiamo avuto però non ve lo riesco a far vedere la nonna scusate ecco questo braccialetto è qui però non si vede e niente l'abbiamo aperto ieri notte cioè praticamente a me nella vigilia apremo il regalo essendo che l'abbiamo aperto io Giulia in casa ragutina quindi tutti e tre l'abbiamo aperto così per l'euforia abbiamo detto vabbè il 24 notte ci sta non è vero però non si apre il 24 notte di aprire il 25 cioè il 25 notte niente vabbè avete capito niente io ora entro e ci vediamo dopo ciao ragazzi allora non so l'ultima clip quando è stata non so nemmeno se vi ho fatto vedere che praticamente oggi abbiamo mandato la pizza e comunque praticamente siamo andati a fare gli ultimi regalini tipo ai ultimi parenti qualcosa da tiger qualcosa altro in altri negozietti così mi ha fatto il regalo a mamma e babbo e che a mio parere è molto bello è significativo e non lo so è carino ora sono le 17 e 40 quindi le 5 e 40 e io leggermente sonno però ho dormito una decina di minuti 20 minuti in macchina e se vengo in condizioni veramente brutte però non fa niente perché ora saliremo sistemeremo tutto e mi laverò mi vestirò e poi ho fatto ciò inizieremo a preparare la tavola tutte queste cose però stiamo a casa mi vestirò anche a tema natale perché ovviamente e cosa sto combinando spero niente di male quindi penso che la prossima clip sarà quando sarò molto più sistemata e niente ora ora non lo so ma dopo devo incartare i regali per me per le mie cugine queste cose qua e poi domani li portiamo a casa di nonna quindi niente ci vediamo dopo e raga allora siamo tornati a casa non fate caso al disordine ma babbo abbassa la voce tu vabbè praticamente dobbiamo fare le tartine quindi abbiamo qui il pan carré con la maionese ora quindi mettiamo un timelapse mentre facciamo bello 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 fai bravo fai bravo fai bravo siamo i miei a male incontrare siamo sotto sopra siamo odio e zamo na 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 fai bravo io c'ero questa notte e raga allora sono le 8 e un quarto della vigilia di natale il 24 dicembre e io sono vestita aspettate ora vi giro la telecamera vi faccio vedere comunque qui sono dei regali che devo incartare dei cugini e poi niente ora aspettiamo che vengono tutti i ospedi poi vi faccio vedere la tavola come è apparecchiata l'apparecchiata Giulia spettaculare e ora vi faccio vedere appunto come sono vestita allora mi sono messa questo vestito maione che già vi ho fatto vedere nell'olio con la cinta della guess e poi le hug quindi questo è il mio outfit molto natalizio e glitteroso mi piace un pacco vi faccio nei commenti se piace anche a voi auguri a tutti di buona vigilia di natale 24 dicembre 2019 auguri 25 ok raga allora è scattata la mezzanotte praticamente è natale ormai ho mamma è tipo mezzanotte 20 una cosa del genere Giulia si sta mettendo il pigiama quindi non ve la riprendo e niente poi magari più tardi quando arriverà Babbo Natale a Giulia apriremo i regali ora invece abbiamo ancora tutti i parenti le cose e stiamo ancora mangiando ragazzi sono esausta mamma è il primo di Natale che passiamo a casa quindi mamma ha cucinato di tutto e di più e io voglio morire basta raga veramente non la faccio piena e vorrei mettermi il pigiama anche io però non lo so perché non me lo metto ancora magari apro i miei regali poi una volta aperti mentre il pigiama eccetera e niente vi mando un bacio ci vediamo ciao ciao ok raga allora è arrivato il momento di aprire il calendario dell'avvento siamo state un po' cattivelle perché non l'abbiamo aperte non l'abbiamo aperto tutte le caselle cioè siamo arrivati cioè il 19 l'abbiamo aperto però il 20 no io apri i numeri pari del calendario Giulia ma è che stai ritorno in basso città paura vabbè apriamo allora io apro i numeri pari qui e quelli dispari qui e qui ok allora siamo arrivati al numero 20 quindi io qua apro il 20 perché io qua apro i numeri pari è uscito un bellissimo vetto della kinder questo ci rimandiamo dopo magari lo apriamo anche là della kinder così che a me piace poi allora apriamo pian piano e poi il 24 lo lasciamo il 21 il 21 sta qua è che comunque commentate giù nei commenti se vi piace mi ha off perché mi piace non lo so sono contenta di quello che ho scelto ok ok anche questo ci piace molto Giulia poi 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 il 23 il 22 no il 22 il 22 questo è il 22 il 22 vediamo un po' ah buono quello verde verde questo è l'altro e poi il 23 il 23 e il 24 invece lo lasciamo alla fine vero Giulia su ah no battete a V Giulia abbassati perché ti dai la testa così ok poi il 24 allora il 24 lo apriamo all'ultimo poi qua qua io apro quelli dispari quindi devi aprire tu il 20 che sta qui Giulia ma allora se contenta sta per arrivare il bambinatale a breve arriverà sì questo è il caramelline poi 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 il 22 no il 21 scusate vabbè non l'ho aperto lo giuro il 21 dove sta? ok eh Giulia ha paura 22 buone queste ci piacciono ci piacciono ora 23 23 e il 24 do a te in questo calendario questo qua lo puoi aprire anche tu va bene voglio aprire solo l'alba ok questo e ora apriamo questo questo allora inizia qui no inizio io quello piccolo quello piccolo sta qui dentro il quadro un attimo qua che se lo prende Babbo Natale dici allora io apro il 20 i biscotti un bel Babbo Natale Babbo Natale questo te lo desichiamo a te vero Giulia poi 21 21 dove si trova il 21 cioccolatino cioccolatino rosa no blu quante cose 24 22 22 tocca a me 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 ci ho aperto cioccolatino rosa Babbo Natale e ora partiamo proprio da lui ok che ne dice apriamo il 24 un Babbo Natale bello grosso il vero Babbo Natale basta diamo le perché ti tagli da testa 4 raga l'aribo c'è un po' ah capito sono sono più grandi vabbè però c'è un po' deluso sono dei pacchi regali questo è il mio amore ormai l'avete capito apriamo Giulia vieni più qua ti tagli da testa oddio Babbo Natale Babbo Natale questo è un altro dedicato a te ti assomiglia pure guardate buono questo me lo mangerò tutto io ma ero giù lì no come no andiamo ok raga allora noi andiamo un po' di là perché altrimenti Giulia ha molto paura di stare da sola di qua con me aspetta e ci vediamo dopo saluto amore forse raga magari ci vediamo non lo so magari dopo aver fatto il saluto oppure ci vediamo domani in un prossimo video perché il video dei regali ve lo carichiamo a parte ciao e raga allora chiudiamo qui il vlog noi abbiamo impacchettato gli ultimi regali da impacchettare ve lo chiudiamo qui stiamo aspettando nella camera da letto aspettando Babbo Natale e poi apriamo i regali amore però il video dei regali lo vedete in un video a parte quindi io vi saluto Giulia vi saluta noi andiamo un bacione le due di notte circa le due di notte circa e quindi ora noi andiamo se Babbo Natale arriva perché se non arriva rimaniamo tutta la notte qui vero Giulia? no vabbè raga noi vi mandiamo un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao buona vigilia a tutti anche se sarà passata quando vedrete questo video perché è già passato ormai è Natale quindi buon Natale ciao ciao buon Natale